Sulle spalle dei cittadini di Castellabate c'è un macigno insostenibile, i tributi locali. Scrive così il consigliere d'opposizione Luigi Maurano, in merito alla tariffa sui rifiuti, la tari, le bollette dell'acqua, le sanzioni amministrative. I cittadini di Castellabate sostengono sulle proprie spalle un peso insopportabile, quello dei tributi locali. Questi tributi incidono per il 60% sulla vita economica, familiare, imprenditoriale, turistica dei cittadini di Castellabate. Stiamo parlando di tari, stiamo parlando di acqua, stiamo parlando anche di multe elevate. L'ultima scelta scelerata, nefasta dell'amministrazione comunale è stata quella di affidare la gestione del servizio idrico integrato alla CONSAC. Conseguenza di questa scelta sono state le bollette salatissime che sono arrivate ai cittadini di Castellabate. Ma in questi anni l'amministrazione Spinelli ha aumentato, ha alzato anche altre tasse, altri tributi locali. Penso per esempio alla tari. Il 30 marzo 2017 l'amministrazione Spinelli ha alzato e ha aumentato le tariffe per il tributo tari, vale a dire per la tassa i rifiuti. Quindi i ristoranti, bar, attività commerciali e determinati nuclei familiari hanno avuto un aumento di questa tassa. Una tassa peraltro che viene calcolata in una maniera non proprio legittima, cioè viene calcolata non tanto per la quantità di rifiuto prodotto quanto per i metri quadri che un cittadino possiede. Siamo di fronte a una vera e propria tassa patrimoniale, quindi non si paga la quantità di rifiuto prodotto ma invece l'immobile che si possiede. Quindi questo è un principio sbagliato, è un principio che va anche contro quelle che sono le direttive europee, che sono molto chiari, quanto in cui ne paghi è la direttiva europea. E invece qui a Castellabate se per esempio una stanza, una casa, un ristorante, un'attività rimane chiuso viene comunque tassato, anche se quella stanza, quella casa, quel bar, quel ristorante, quell'attività non produce rifiuto in un determinato periodo. Così in questi giorni poi a Castellabate sono arrivate anche delle ingiunzioni di pagamento, intimazioni di pagamento per tributi degli anni precedenti. Bene, per volere dell'amministrazione che ha esternalizzato il servizio di riscossione coattiva, oltre all'importo originario i cittadini di Castellabate devono pagare un più 4% di compensi e interessi a queste società, quindi altre spese per i cittadini di Castellabate, così come anche le multe elevate per la violazione di disposizioni o di regolamenti che andrebbero riviste. Ma in questo caso a far rabbia non è tanto la sanzione per il mancato rispetto di una disposizione o di un regolamento, quanto la disparità nell'elevare queste sanzioni. Quindi, come potete ben capire, a Castellabate l'oppressione fiscale è al massimo per i cittadini di Castellabate e è dovuta alle scelte dell'amministrazione comunale. Ci vuole quindi un piano forte, un'azione forte per ridurre i tributi locali, perché è un'azione che si deve fare e che non può essere fatta da chi in questi anni ha aumentato volontariamente i tributi ai cittadini del Comune di Castellabate.